Il Comune di Agropoli ha promosso un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la gestione dell'ex fornacea in Viale Lombardia. L'amministrazione civica retta dal sindaco Roberto Mutalipassi ha inteso avviare il procedimento esplorativo allo scopo di valutare la disponibilità di soggetti interessati a partecipare ad una successiva gara per l'affidamento della gestione dell'immobile. A riguardo saranno acquisite proposte progettuali relative all'utilizzo funzionale, alla conservazione e valorizzazione dell'ex fabbrica di Laterizi, riconvertita a monumento e museo di archeologia industriale del lavoro. Attualmente l'ex fornacea è utilizzata come location per eventi, manifestazioni, convegni, rappresentazioni storiche e attività tese alla promozione del patrimonio artistico-culturale del Cilento. In caso di gara la concessione durerà 36 mesi e riguarderà l'intera area esterna ed interna del complesso. L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un operatore museale che dovrà coordinare le iniziative programmate per la valorizzazione del bene. Per gli interessati c'è tempo fino all'11 aprile prossimo. L'adesione potrà essere consegnata al protocollo generale, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Grazie. Grazie. Grazie.